Scusami, ci mettiamo la farina, le uova, lo zucchero, eh, pistolone? Dove vai, cucciolo? Non muore. Rau, me lo fai vedere? Ma voi fanno i servizi a me? Pistolone. Non, 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 non. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sushi dinner, guardate quanto sono cute, con il mio Zvi, Pardis, Marty e il mio love Angie trofea. E perché non si può dire? Insultiamolo pubblicamente. Dai! Io adoro questi. So cute! No! Wow, io mai la soia. Che belle, è bellissimo!